Poi dice che uno si deve incazzare perché ti incazzi e perché perdi la pazienza Messi nel Paris Saint Germain non farà bene, andrà a pestare i piedi a Neymar e Mbappé Allora partiamo dal punto di vista che in un 1-4-3-3 i tre attaccanti non sono mai schierati Così come può pensare evidentemente questa gente, quindi tutti uno sull'altro Quindi così si pestano i piedi Ma nel caso di Messi, un giocatore che ha giocato in fior fior di tridenti Dimostrando di poter giocare con qualsiasi tipo di giocatore Secondo me questo problema non esiste perché Messi può giocare come punta centrale per venire incontro Può giocare sull'esterno andando in profondità o cercando le vie centrali Quindi queste sono tutte stronzate Fidatevi che se funziona il tridente, barbara d'urso, tv del dolore e ascolti Può funzionare facilmente anche questo qui